Buongiorno a tutti da Jack Leone Max, siamo ancora su Ronaldo di Football, dopo la partita ad esordi su sto gioco, Brasile contro USA, vorrei provare gli amici argentini, vediamo se li hanno trattati bene, spero proprio di sì, e la faremo contro, ovviamente facciamoci una squadra divertente, facciamo un bellissimo, Argentina-Arabia Saudita che è nel mondiale del 2022, è finita in maniera disastrosa per l'Argentina, speriamo che non finisca, bellissimo, evoluzione, ecco qua, alla fine gli ho messi gli effetti sonori, gli ho messi i bassi, ma gli ho messi Burgo Zanetti, Ayala, Shamor, Verón, Simeone, Sensini, Gonzale, Sortega, Crespo e Batistuta, wow che attacco, contro Heldehaya, Heljahani, Helmakim, Sulimani, Alkiliawi, Amin, Aldossari, Saleh, Alkunian, Alsharani, e non ho letto l'ultimo, mi scuseranno i tifosi, i numerosi tifosi avrebbero salutati a chi presenti, ok, ci siamo, non tocco nulla, perciò vedete che c'entra anche, beh 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 c'è Bizarri, Almeida, buono, qui non ha voti altissimi, Vivas, Gagliardo, Claudio Lopez, attaccante, ci sta, ci sta la grande, non mi posso lamentare, partiamo, e vorrei anche provare una telecamere differente, venuti alla visione di quella che speriamo sarà una partita affascinante, la sagacia dei due allenatori promette un grande spettacolo, se il tempo tiene non ci saranno problemi, le condizioni sono l'ideale per giocare, sì ma mi abituo subito a sentire sto rumore in cuffia, non nulla, al massimo perdo un orecchio, Zanetti, ebbè, capitano Zanetti, questo non era mio capitano, ecco che ci siamo, vai vai vai, guardate, wow che bello, ho visto un'azione clamorosa, la palla ha superato la linea, ok, puff, guardate che gli effetti sonori sono irritanti, ok, primo tiro verso la porta, facciamoli spaventare un po', con il gioco dell'argentina, l'arbitro giudica tutto regolare, eh, Juan Sebastian Verón, eh, eh, la facciamo, ci sarà una rimessa, una rimessa, passaggio, comunque, io non l'ho mai sentita una telecronica italiana perché un minuto che c'aveva il gioco, la metteva in brasiliano, e c'è veramente in brasiliano la telecronica, se volete sentire, la metterò in brasiliano, ma non ha senso per esempio l'argentino, italiano, brasiliano e spagnolo, come lingua, attenzione, crespo, mannaggia, attenzione, veramente, rimette in gioco, ci ho creduto per un attimo, ci ho creduto, passa, 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 passa da me, passa da me, attenzione, sonoro, veramente fastidioso, vi, 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 ripetizione, per lo stesso suono, capite perché, per rischio di disabilitarmi o tenermi bassi, anticipa il pallone, anticipa il pallone, crespo, grande crespo, grande crespo, attenzione, batti il gol, batti il gol, va come scatta, va come scatta, tira, tira, vai l'azione, e spinge il tiro, attenzione, veron, 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 attivole, vero, ha tirato, angolo, ce la possiamo fare, oddio, come si tira negli angoli sto gioco, no, l'ho tirata potentissima, no, sulla luna sta palla, no, attenzione, la mia rovesciata, bellissima, 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 si prepara al rilancio, passaggio, passaggio, ci siamo quasi, ops, una volta c'è, attenzione, incredibile, l'arabe saudita pericolosissima, peligrosa, come si dice in spagnolo, un passaggio, intercettato, ecco qua, cede palla, eccoci qua, no, l'ho falciato, non è niente, ma dai, ma no, c'è morto, non farebbe mai queste cose, degenerare l'incontro, vabbè, ci siamo, attenzione, da questa posizione si può tentare, al pugnianci, prova, attenzione, buona azione, uff, buon passaggio, eccoci qua, passa, passa, no, volevo passare a Crespo, comunque è grande, vero, vero, è sempre scatenatissimo, bel giocatore quello, buon passaggio, l'abbiamo falciato con la Iana, è altro fallo, lo fa male a protestare, espulsione, l'abbiamo trovato la sua fama di inflessibile, inflessibile, cavolo, inflessibile, non era un fallo d'espulsione, sta roba, oddio, abbiamo collaborato in difesa, mannaggia, ah, vabbè, se ne caveremo in dieci, se mi ricordo che questo mio amico diceva che si era fatto finire le partite per espulsione di giocazione, ma che fallo, non è che ci sono altri modi per intervenire, siamo quasi all'intervallo, ci vorrebbe un gol, mannaggia, la sicurezza alla difesa, sicurezza, sicurezza, il passaggio, guardate, c'è poco da guardare, ecco qua, come telecronica, sì, non è eccezionale, bisogna metterlo, e segna al charrani, mannaggia, non volevo subire il gol, inserite che stiamo già giocando, ecco qua, ah boh, non so cosa fare qua, io farei attacco centro, attacco destra, 3-5-2, ma viene così, ma in effetti, cavolo, Ortega, attacco, attacco, attacchiamo, andiamo a insistere qua, dobbiamo fare una partita offensiva, e gol di al charrani, portiere, con una traiettoria deliziosa, che ha esaltato il pubblico, 1-0, segnale, perfetto, 1-0, il gioco è ripreso, non devono perdere la concentrazione dopo quel gol, passa, passa, vai, Ortega, Ortega, ecco qua, la R è forzata così, cos'è? altro, ah, finito il coro tempo, pensavo avessi dato un altro fallo a Chaumot, ma basta, fallo a Chaumot, cioè veramente, è stato un buon tempo, ben giocato dalle due formazioni, non vedo perché il resto del... al charrani, ok, ha segnato a conto di noi, ma abbiamo conto di noi, è iniziato il secondo tempo, il tifo sugli spalti e alle stelle, vabbè, oh, mannaggia, ha segnato Sally, ha segnato Sally, beh, è brutta per noi, non è una bella cosa, brava, non è mica quello, attenzione, perché quale è il calcio di concentrazione, il tiro in porta, in porta, troppo in porta, povera argentina, l'arri ha messo in vita, veramente, mi punisce ancora una volta, la mia, questa partita è incredibile, se la palla viaggia per tutto il campo, ha una velocità fantastica, che tecniche, passa, l'arbitro giudica tutto regolare, oh, povero, dai, il nestro Sensini, grandissimo, non sembrava molto simile, ecco qua, che giocatore, che giocatore, dai, falciato, falciato, non espelami anche lui, anche se è tirato per i capelli, ha tirato per i capelli, il fallo, oddio, qui Sensini, non sembra aver molti capelli in sto gioco, ma, ok, no, veramente, ma siamo sicuri che stiamo giocando, siamo sicuri che stiamo giocando, ah, di me, ma mi ha già come lento il menu, niente, non ho possibilità di cambiare nulla, a parte la telecamera, che magari, lato alto, lato basso, fronte, no, fronte no, ti prego, io non mi piace, lato alto, lato basso, lato alto, lato alto, lato alto, lato giù, beh, è proprio la migliore, secondo me, lato basso, vale, può fare così, proviamo questa, non è la stessa cosa, secondo me, non è la stessa cosa, oddio, forse è peggio questa, forse è molto peggio questa, non mi piace per niente, non mi piace per niente, però se segno con questa, no, non si capisce niente, eh beh, diciamo che è difficile, eh, sì, siamo in una fase molto tattica dell'incontro, si libera della sfera, buon passaggio, Sensini, buonissima, vista così si vedono i difetti del gameplay, vista così, attistuta, attenzione, bellissimo l'effetto, si, che gran portiere, sarà angolo, salgono i difensori, angolo, cercavo di non tirarla troppo forte stavolta, ho esagerato intanto a volte, cambiare, attenzione, vediamo un po', ok, perché la palla è in mezzo, no, c'era l'ultimo difensore, cosa che noi non abbiamo, perché si è espulso, ah, ecco qua di disastro, vai, Sensini, vai, Sensini, facci sognare, non ci ha fatto sognare, posso far uscire il portiere, sì, ottima parata, vai, salta duesimo, attenzione, fallo, ma veramente cos'ha quest'arbitro, cos'ha quest'arbitro, ecco qua, passa, splendido tocco, oh, stavolta abbiamo fatto la fregatura, passagliela all'ultimo giocatore, beh, è una buona strategia, voglio dire, quanti giocatori hanno usato questa strategia qua, di passarsela fra di loro, funziona, proprio che funziona, dai, bel tiro, in realtà no, perché l'ha parata bene, pensavo fosse molto più insidioso, ma questi portieri sono fenomenali a volte, cavolo, che tecniche, ma cosa va a farlo, il portiere, sarà difficile superarlo, è immortale, veramente, siamo, battistuta, vai battistuta, facci sognare, tiro, il portiere era battuto, vabbè, però veramente abbiamo preso traverse, pali, è incredibile questa partita, è incredibile, si prepara al rilancio, come ho già detto, io pubblico serie vittoria che le sconfitte, bloccato, perché voglio essere onesto, non mi piace solo pubblicare, quando va bene, tutto bene, è onesto, è semplicemente onestà, ecco qua, vai ci siamo, dai, prego a farmi fare un gol, dai, fai vedere un gol della bandierina, su dai, cavolo, siamo, che giocatore, che giocatore, crespo, crespo, no, non ce la fa, disastro, disastro, ragazzi, l'Arabia Saudita vince, e mi spiace, mi spiace, mi sta troppo simpatica, l'Argentina, una squadra per cui adoro, l'Arabia Saudita, oggi, si porta a casa una vittoria, come nel mondiale 2022, ma poi alla fine, ricordatevi chi ha vinto il mondiale, l'incontro si è concluso con la sconfitta, credo che l'allenatore dovrà cambiare qualcosa, le polveri del gioco d'attacco sono bagnate, le polveri sono bagnate, era quello il grande problema della partita, che non si riuscì a segnare, vabbè dai, è stata interessante, ci vedremo, voglio di nuovo poi giocare all'Argentina, e farla vincere, di queste volte, dai, poverina, vi saluto, e ci vediamo al prossimo, ciao da Jack, Leon e Max, un salutone, ciao!